Ben trovati in Porta Aperte Scuola. Vediamo insieme cosa offre il percorso, quali sono le attività del nostro laboratorio. Vieni a scoprirlo. Questa attività durerà circa tre ore durante le quali avrete l'opportunità di visitare i laboratori della nostra sede di Grugliasco. Assisterete all'analisi sulle acque e sull'aria, sui vini, inchiostri per tatuaggi, cosmetici, pellet, bigiotteria e altro ancora. Sarete ospiti del laboratorio di chimica di base dove assisterete alle analisi di conducibilità di anioni e cationi e del pH. Dopo visiterete il laboratorio di analisi dei metalli per poi spostarvi al laboratorio di cromatografia dove analizziamo matrici acquose per la determinazione degli antiparassitari, di aria per la determinazione dei composti organici volatili e delle matrici complesse come gli inchiostri per tatuaggi. Infine vi sposterete nei laboratori di biologia dove vi mostreremo le analisi di microbiologia. Al termine del nostro incontro ne saprete di più sulle attività di un laboratorio ad alta specializzazione.